800 tetti per 140.000 metri quadrati, questo il totale delle coperture in cemento amianto ancora da bonificare nel territorio di Stradella, secondo quanto riferito dall'assessore all'ecologia Roberta Reguzzi durante l'ultimo consiglio comunale in risposta ad un'interpellanza del consigliere di minoranza Mattia Grossi del gruppo La Strada Nuova. I numeri però, ha spiegato Reguzzi, potrebbero essere in verità più ridotti perché la ditta incaricata del monitoraggio potrebbe aver sovrastimato il tutto includendo quindi coperture che somigliano all'Ethernet ma non lo sono come le cosiddette onduline ecologiche in fibro cemento quasi del tutto simili a quelle tossiche. Le immagini satellitari su cui si è basato lo studio infatti non permettono di distinguere con precisione dopo la verifica puntuale dei casi la previsione del comune che il totale si attesti attorno ai 100.000 metri quadrati, una cifra comunque considerevole a differenza di quanto stimato in passato del tutto simile a quella della vicina Broni dove i monitoraggi sono stati eseguiti con l'ausilio di droni. In entrambi i comuni le amministrazioni hanno stanziato risorse per 300.000 euro per aiutare i privati a bonificare. Nel caso di Stradella il primo anno di incentivi ha portato all'avvio di 27 interventi con lo stanziamento di 82.000 euro di contributi sui 100.000 messi a bando, una cifra che sarà disponibile anche per il prossimo anno e per il 2023 e con cui il comune conta di dare un forte impulso alle bonifiche nelle proprietà private. A Broni che ha stanziato le stesse risorse ma su due anni anziché tre non sono ancora disponibili dati sull'andamento dei cantieri privati ma il comune ha fatto sapere che sono state emanate le ordinanze di bonifica per i tetti più deteriorati che rappresentano circa il 20 per cento dei 100.000 metri quadrati di tetti in cemento amianto presenti. La questione nel corso del Consiglio Comunale di Stradella ha assunto anche connotati politici quando la minoranza è tornata a criticare la decisione dell'amministrazione Cantù di recedere dalla richiesta di inclusione nel sito di interesse nazionale Fibronit del territorio di Stradella e quindi dalla possibilità di ottenere finanziamenti aggiuntivi ad hoc per le bonifiche direttamente dallo Stato.